Ma che cazzo? Ma che cazzo? Uno quello è! E' morto? E' uno eh, ne uno e ne uno E' morto, morto, morto E' un altro? Un altro? Potrebbe essere un bot, non lo so, ma sono passi E' un bot, è un bot Non lo so, si muove molto veloce Non è un bot, questo non è un bot Non è un bot, non è un bot E' uno vero? Credo di sì Ma che altro lo voglio Non bot Arriviamo, arriviamo Ah, posto, posto, posto E' già andato? Si, si, si Classico Un po' l'xederata qua eh Ma come l'xederata? Ho fatto, io che ero, ho fatto una kill su tre Cioè, scusa Ah, io si si sto fightando eh Ah, arrivo? Arrivo Rick Uno sopra Quello doppio 35, tipo un quadro un po' bianco morto Uno nel box Uno nel box Uno nel box Capiti colpi, capiti colpi, ric, 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 non ho più colpi Eh, gli ho fatto malissimo Bravo, bravo Un altro ancora qua sotto morto Bene, 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 bene Che rissa qua eh Un po' più avanti Che tra l'altro ti dirò, secondo me se lo compri adesso lo paghi di meno Il trattorino? Il trattorino? 100-100 Massimo Sto pensando se prendono nuovo o usato? Usato, vada su subito trattorino Eh, quello pensavo, infatti Il problema è come cazzo lo porto, la cosa che faccio lo guido, figa Questa strada, figa, mi arrestano Bello, slide shot, snipe Bello, slide shot, snipe Sembra una minchiata, ma il problema è portarlo anche Centro Promiglio Ma niente, pizza? Si Uno scappa Ho fatto male, ho fatto male Ho fatto malissimo ancora Niente Se vuoi lasciarmi, non ci provo a farmi l'1v1 Sì, sì, sicuramente, perchè non volevo ucciderlo Bravo Che bravo di me questo eh Davvero dai, ci faccio Ci vogliamo molto però Potrei avere necessità Ma tipo one shot oppure... No, no, non è one shot Ci arrivo, guarda Vai che araccato se vuole, ci va Ma guardi, vada, vada Arrivo Devo dire, è andata giù con un filo di gas qua Molto, molto bene Sì, comunque, io ho un trattorino, avevo all'inizio un grillo Sì Parlante E poi... No, si chiama così, eh? Poi un guepard si chiama... Non funzionano bene? Sono fighi? Eh, ciò... Ti cambia la vita Si, cambia la vita Si, in campagna da me Ti metti a girare Ti diverti Fa secondo me, fa secondo me Fa secondo me 26, doppio, triplo No, no, ma lo faccio, io non voglio più soffrire nel tagliare l'erba Ma c'è gente sul treno Sì, ma c'è gente anche giù dal treno Ma fregato Un è white, uno di vita Guarda Mi pusherà l'altro io Lo sono salvato io comunque C'è uno che sta nuotando raga E' sempre lui sotto la nuoto Fizzo al trattorio della Yamaha Merda Porto uno, Rick Arrivi, arrivi C'è l'ultimo in teoria Sì, 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 l'ho finata Ci sono qua ragazzi, sono qua Quento? Box? Vado nel box Marta Mi tirate su, sono qua nel bus Arrivo Nice Ulita Dai, cazzo Nice Faccio medici? No, ma va Venga, anche se Sì, ma mi ci vuole Anche perché penso che con la roba del genere cosa... grazie Se ci metto di solito quattro ore e mezza a farlo cosa ci vorrà un'oretta? Un'oretta, 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 un quarto Eh minchia Ma poi vuoi mettere proprio anche la... La bucchia rilassante, cioè non è che... Non devi far niente di guidare, figa Ma devi guidare, che metti magari in cazzo la sua musica dal telefono No, no, io ti metto l'impianto, tu non hai capito Sì, si metto l'impianto, figa A un buonno canto, sonno, buonno Inizialmente taglia l'erba proprio Sì, metto Oh, mi chiedetevi ragazzi Ok, la metto la tua, sei andato, sei andato Ok Gli metto anche i neon sotto, gli metto, fega Hai bisogno, Rick? No, 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 sei andato, sei andato Ah, ok Eh, ce l'aveva il motorino, Piz? Eh, motorino Sì C'è il cinquantino Cinquantino Sì, sì, ce l'avevo, ce l'avevo Aveva fatto qualche... Eh, qualche modifica E ha allargato i travasi, lì, con le stronzate Ok, ok Io faccio lamellare Oh, be Merda Sì, no, due o tre stronzate Il problema è che Fai allarghi di qua e di là più benzina, eh Ma non va un cazzo, dai Non è vero C'ho un motorino No, aspetta, però io ho il cinquantino Non ho cambiato il cilindro Ah, che grazie al cazzo Quel cilindro originale... Eh, certo No, no No, mio papo non mi voleva... Cioè, non mi voleva proprio far cambiare il cilindro Neanche i miei volevano, infatti me lo smontavano a casa Senti, quando loro non c'erano, fega Eh, no, è che il problema è che non avevo... Sincero... Li avrei messi Ma non avevo abbastanza soldi per mettere un piste Un cilindro grosso Mi ricordo Siamo passati due o tre di cilindri Ho iniziato a prendere... Il dual plus Si prendeva all'inizio Un 70 Un 70 Si parteva col 70 Poi quando prendevi un attimino la mano Gli ultimi anni di motorino Ci avevamo messo sotto il 107 Fabrizio Vogliamo andare Sì Sì Andiamo Andiamo E qua Sto in tre Oh, incazzatissimo Bravissimo lui Bravissimo lui Mi ha fatto 36 Guarda No, non ho tanto white Mi ha racchiato un altro Bravo Questo qualcuno che mi ha fatto Easy Unca l'ultimo E' andato anche lui Allora Let's go La...la rischiate Beh siamo in 22 Potete anche provarci Dov'è che lo posso arrestare? Mi do un ping subito Mi può arrestare... Rientrando in safe qua Ping blu Dove cazzo ha il ping blu? Il ping blu è... No, pizza No, andiamo dall'altra parte della safe La? Vabbè vada dove le pare Vada dove le pare Dove le pare Dove le pare Può restarmi qui Tanto toglio uno Vada anch'io Sì, un paio di pompa mentica per lei eh Merda Queste sono grandi notizie eh Comunque ci sono dei cilindri adesso Troppo potenti C'è delle... Delle... Ci sono tipo i 90 I 110 Vabbè ma ci sono mille robe Io avevo il 107 Fabrizio L'ultimo... Fabrizio L'ultimo... Fabrizio non sappiamo 107 Fabrizio Montava un carburatore micuni Della... Minchia cos'era? 28 32 Sì sì del 26 o del 28 Mi ricordo ma i getti Ma il carburatore in realtà Allora è vero Più grande la camera del carburatore Più... Più ovviamente entra benzina e tutto quello che vuoi Ehm... Ma... Molti cambiano i getti Tenendo il carburatore originale È una stronzata ragazzi Sì Dovete cambiare... Vedi che vedi che Allora io sapevo che con un carburatore troppo grosso Ci perdevano i passi un pochino No Carburatore troppo grosso Se non è ovviamente carburato bene Hai il problema che si va... O a monte o a valle O a monte o a valle Aiuto aiuto Ok occio Adjet 9 Bravo Sono sopra qua eh Sì sì vado subito Sto salendo con voi Sì Io ero forte A mettere le mani sui motori Mi raga Arrivavano le persone Dove Alla ragazzo Porto Un barco Un signore che fa il simpatico Mi è sbombardato? Sì Ma che cosa fa? Non lo so Fuori di testa C'è un po' oro qua se volete Sì Un big ok, oh, arrivo faccio un big se riesco io non riesco non ci sono più big sono finite ce l'hai? preso sai qual è il cazzo di problema quando inizia a metterci le mani che nessuno modifica i freni eeeh quella è una brutta storia si, quella è una brutta storia ho una di vita ci vale per su si effettivamente è pericolosissimo non toccare i freni raga morto? bomba? le smadonnate per cambiare la molla del variatore lascia stare che rischia che ti partiva in pace ogni volta ando di vita vai a me succedeva con la molla che teneva il cavalletto che teneva lo scarico attaccato al blocco ah si 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 quelle che sono antivibrazioni ecco quella lì ogni volta a toglierlo con la pinza mi arrivavano delle legnate indietro io ci ho stavo smontando un variatore e non avevo ancora la chiave quindi cosa si faceva? si bloccavano le palette del variatore della ventola quella dentro con una con la chiave quella che serve per smontare i filtri nelle macchine e poi prendevi la la chiave inglese del 17 per smontare poi il dado che teneva tutto bloccato no? si avevo le mani sporche di grasso porco diaz era durissima ho fatto troppa forza mi sono scivolato le mani ho tirato una manata al carter mi si è aperta talmente profonda la ferita che ho visto l'osso e il problema è stato non sentivo in realtà male perché è stata talmente una botta forte che il corpo ha sparato subito ha sparato subito sai l'adrenalina no? che non senti dolore io che cazzo ho fatto minchia ho preso l'ho messo sotto l'acqua corrente stavo per svenire non farlo mai perché se tu hai una ferita aperta così profonda gli metti l'acqua e vai vai in shock figa stavo per andare per terra senza neanche potermi controllare andiamo 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 no no vi giuro ragazzi ho un segno ancora qua sul dito ma con l'acqua ghiacciata invece non dovrebbe tenere ti giuro era talmente profondo sono morto a una di vita a vederci grazie io allora ci sta a me è successo una volta a tennis che son caduto ho sbucciato il ginocchio e porco zio mi veniva da svenire per il ginocchio sbucciato? si no ma non attenzione io adesso ho detto sbucciato perchè magari c'è qualcuno a pranzo però merda diciamo che non era un granché non era un granché la situazione porca troia mi sparano da sinistra mi prendono sud ovest 212 sopra le build non penso di sopravvivere il cazzo dove sei ricca esatto ma muori perché ti sparano? di safe di safe arrivo io si forse quanto toglie? 5 cazzo eh no non ce la faccio più beh mi prende la carta 7 6 eh no prende la carta e io no 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 ah cazzo non ce la faccio perchè tu crepavi non mi ricordavo che effettivamente prendevi danno anche in tempeste non so rischiarlo su pizze ehm ora no cioè non devo capire dove più che altro cazzo siamo 3 contro 2 è un problema ah no allora non si può ho bisogno anche di white pizze loro sono a sud ovest ma io le ho a pieno vedo però non sono in safe eh io devo andare in tonax su si tanto loro stanno sparando a me quindi chill e no la push non devo venire da lei no 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 falli pure pushare adesso io me ne vado con l'impulso e torno da loro dobbiamo smetterargli ne uno se io per andare ad arrestare quelle insette dico così questa è una follia però ci provo ci metto la mano anch'io ci metto la mano anch'io ma perché sono più di vento fermato 1 da più 26 blu mi sarebbero pure partono beh qualcuno ha due ture ho scelto di dove sei ric qua 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 i due tini 4 4 4 qua di colpi con piccolo piccoli i due medaglioni anche questa è andata Vai vai sali lì sali lì sali lì Così bisogna giocare La sopra mi pompa Non posso fare niente Non lo cure Entra dentro Mercato Ma se non fermo Bravi raga Altre 30 bombe Porco cazzo E lì secondo me il reboot finale Ha servito tanto Guardo subito Non esageri Ascolta un attimo Allora Vuoi i vaffanculo anche l'ultimo dell'anno? Io ti tiro i vaffanculo anche l'ultimo dell'anno Allora 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 Grazie.